Sì, 10, perché uno l'ha fatta da casa morto. Ma riesci a portare avanti tutti? Eh? Riesci a portare tutti avanti? Non lo so, ah beh, ma lei no, magari io... Ah, di aiutare? Eh, di aiutare. Sicuramente adesso quello qui ne ho dato io gli... ...e un altro di 10, e un altro di 2 non le ha dato. Mi ha dato un problema la macchina. Sto guardando se c'era quella macchina se ne voglio... guardare... Poi il calcio a occhio, con un po' di farmi uscire la stavessa, a fare uscire una goccia da quel botticino umano. Ah, ma con il... E non è con la dipenta, no? E quando giro il coso, devi stare fatta con una fatica. A volte ti capitano con le confezioni un po' del tavolo. Sì, va in un calcio di... No. Qual è? Il calcio di? No. No, no, lui mi ricorda che... No.